Salve, siete su la Rai 6, ci sei, ci sarai. Allora, siamo nei programmi dei nuovi talenti. Abbiamo scoperto un talento di un personaggio che vi farà rabbrividire da tante cose che sa fare. Lui è una persona anticonvenzionale, questo personaggio, che non sappiamo se donno o uomo sarà una sorpresa. È una persona che cade sempre in piedi come un gatto, parla non so quante lingue, sa fare diecimila cose, poliedrico, anticonvenzionale, controcorrente. Però non sa scegliere qual è la sua vera vocazione o la sua direzione, giustamente perché sa fare un milione di cose che ce le sogniamo noi da fare. Sono così emozionata da averlo con noi. Io vi devo presentare un personaggio che potete essere accompagnati da lui per uscire dalla doccia, per uscire dalla piscina, per andare al mare, per tornare dal mare, per andare a un galà, per andare a un tè, per andare al letto, per uscire dal letto, per dormire con questo personaggio, per usarlo come accapatoio, per uscire di giorno, di pomeriggio, di sera, anche di notte. Ho un grande piacere e chiedo un forte applauso per lui, Wild Oat con noi, non si faccia timido, venga qua, venga qua. In Animal Print la camisola che vi porta dappertutto, dappertutto. Sono anni che è in giro da queste parti e vi assicuro che ha dato tante soddisfazioni a quelli di noi che l'abbiamo a casa. Quindi lo congediamo e speriamo che vinca questo concorso di Italians Got Talent su Rai. Ci sei! Ciao, alla prossima!